Musica Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca un furto finito con una denuncia grazie alla distrazione del presunto ladro. Vediamo cosa è successo nel servizio a Sansepolcro. Avrebbe messo a soccuadro un intero appartamento alla ricerca di qualcosa di valore ma nella fuga avrebbe perso il cellulare che di fatto lo ha incastrato. Per un trentenne così il 2024 è iniziato decisamente con il piede sbagliato. Il giorno di Capodanno l'uomo dopo aver sfondato la porta d'ingresso secondaria di un appartamento di via Diaz a Sansepolcro lo avrebbe messo a soccuadro rovistando tra gli effetti personali, svuotando cassetti e rompendo vasi. Una ricerca spasmodica conclusa solo con il rientro dei proprietari che lo hanno costretto ad una fuga precipitosa. I carabinieri intervenuti sul posto nel corso del sopralluogo e dei rilievi hanno trovato uno smartphone che non apparteneva a nessuno dei residenti dell'abitazione. Lo hanno quindi sequestrato ed analizzato risalendo all'intestatario, una società che di fatto è una pizzeria del posto. Quel cellulare infatti veniva solitamente utilizzato per ricevere gli ordinativi dei clienti e le successive consegne. Ulteriori indagini sono ancora in corso ma il cerchio è stato stretto attorno ad uno dei collaboratori dei titolari della pizzeria che ora dovrà spiegare alla magistratura come mai il telefono a lui affidato per lavoro si trovasse invece nell'appartamento dove è stato ritrovato dai carabinieri. I carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno hanno invece arrestato per detenzione ai fini di spaccio una 26enne di origini albanesi. L'uomo è stato individuato, fermato e controllato nel centro storico di Montevarchi durante un normale servizio di controllo sul territorio. In suo possesso sono state trovate 5 dosi di cocaina e 2 di hashish. La perquisizione a questo punto è stata estesa anche all'abitazione dove è stato trovato l'occorrente per la preparazione delle dosi di stupefacente ed altre dosi di cocaina già confezionate pronte per la vendita. A Castiglione Fiorentino invece gli agenti della polizia municipale hanno denunciato due uomini, un 36enne ed un 32enne, colte in flagranza di reato mentre tentavano di vendere cuffiette audio per iPhone false. Gli agenti su segnalazione dei colleghi di Cortona li hanno inseguiti, fermati e perquisiti presso una distributore dove stavano cercando di effettuare la vendita. Dopo aver sottoposto la merce al controllo seriale si sono resi conto che si trattava di materiale perfettamente realizzato ma taroccato la merce e ben a 18 confezioni è stata ovviamente sequestrata. Nella mattinata invece si è verificato un incidente in provincia di Arezzo, uno schianto tra un'auto ed una ape in località Baciano a pochi chilometri da Capolona. Per cause ancora in corso di accertamento, due mezzi si sono scontrati frontalmente, il conducente dell'Ape, un uomo di 67 anni, ha avuto la peggio, è stato trasportato all'ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine. Questa mattina si è insediato il nuovo prefetto di Matera, la retina Cristina Favilli. Proviene dalla prefettura di Arezzo dove era dirigente e prende il posto di Sante Copponi trasferito nelle Marche ad Ascoli Piceno. Nel suo saluto alle autorità Favilli si è detta onorata ed entusiasta di essere stata chiamata a rivestire un ruolo di rappresentante del governo sul territorio in questa splendida realtà. Ha poi ricordato anche la provincia di Arezzo che le è rimasta nel cuore, sia da un punto professionale che umano. Qui infatti continua a vivere la sua famiglia. Voltiamo pagina adesso e torniamo a parlare dei cattivi odori che interessano una parte della città di Arezzo. Come è annunciato, a breve partirà uno studio olfattometrico. Cercasi e Arezzo, operatori a caccia di maleodoranze. Come è annunciato nel corso della scorsa estate, il Comune sta avviando uno studio olfattometrico per fare chiarezza sui cattivi odori che ormai da tempo interessano le frazioni di Chiani, San Giuliano, Ruscello, Le Poggiola, Battifolle, Olmo e San Zeno. Un problema che era diventato anche oggetto di un esposto in procura e adesso l'amministrazione comunale ha scelto di rivolgersi ad una società esterna per andare a fondo alla questione. Ci aspettiamo, commenta l'assessore all'ambiente Marco Sacchetti, che i risultati offrono un solido contributo alla comprensione del fenomeno e quindi alla soluzione del problema. L'indagine avrà durata di sei mesi. Dapprima i candidati verranno selezionati in base alla sensibilità olfattiva per poi essere formati a riconoscere gli odori tipici che sono oggetto di ripetute segnalazioni da parte dei cittadini di queste frazioni. Il loro lavoro sarà quello di effettuare rilevazioni di odore secondo un programma stabilito e su una griglia di punti di controllo predeterminati. L'obiettivo finale è infatti quello di produrre una mappa di frequenza e intensità degli odori. A breve poi sarà messa a disposizione per tutti i residenti dell'area una specifica app per segnalare gli odori secondo un formato standard. Sia lo studio che il software collegato all'app per l'elaborazione dei dati si avverranno di una stazione meteo appositamente installata nell'area da cui proviene il maggior numero di segnalazioni, conclude l'assessore Sacchetti. Andiamo adesso a sentire l'appello di una donna della signora Rita, troppo anziana, così le è stato detto per lavorare, ma troppo giovane per la pensione. Non importa tutta l'esperienza che si possa avere, ma non mi prendono e mi sono sentita dire per due volte nello stesso giorno, in due colloqui, lei è troppo vecchia. E questa è la frase che la signora Rita continua a sentirsi ripetere durante i colloqui di lavoro. Anche maleducatamente, oltretutto perché non mi sembra il modo di esprimersi, però non trovo lavoro, non mi rispondono per l'età. E poi c'è proprio chi mi dice lei è troppo vecchia. Rita ha 62 anni, 63 tra pochi giorni, come precisa lei stessa, ancora troppo giovane per la pensione, ma soprattutto con ancora una gran voglia di lavorare. Il problema è vivere, se una è da sola, perché non ho più genitori, non ho figli, non ho fratelli, non ho sorelle, in qualche modo devo vivere. Ma come si fa? È quello che mi sto chiedendo, ogni tanto dico vado a fare un furto, così mi mettono in galera e mi mantengono. Rita oggi è disoccupata, ma per anni è stata impegnata nel settore delle vendite con un curriculum di tutto rispetto. Il mio appello è che qualcuno non guardi l'età, ma guardi l'esperienza. Anche perché ho un'esperienza tale che posso insegnare alle nuove leve, se non altro, a imparare a vendere. Ho iniziato a 18 anni suonando i campanelli per Euroclub, vendendo porta a porta, fino a vendere proprietà immobiliari a Santo Domingo. Quindi è tutto quello che c'è nel mezzo. Ho venduto abbigliamento, ho venduto fossili, minerali, ho venduto gioielli, ho venduto libri. Tutte le volte facendo corsi su uno specifico prodotto, quindi posso insegnare a vendere a tutti i livelli. La violenza economica perpetrata nei confronti delle donne è stato un tema al centro della seduta della consulta delle pari opportunità. Si tratta infatti di un fenomeno diffuso, ma che rimane sommerso, poiché poco percepito e di conseguenza poco denunciato. Il controllo economico esercitato contro le donne è una forma di violenza di genere particolarmente subdola, discriminante e lesiva della dignità, ha commentato l'assessore del Comune di Arezzo Giovanna Carlettini. È dunque fondamentale un'azione di educazione e consapevolezza che aiuti le donne, vittime a volte anche inconsapevoli. E sono stati approvati invece dall'amministrazione comunale i progetti che definiscono il contributo per la realizzazione delle sale polifunzionali di Santa Firmina e Vitiano destinate all'attività dei centri di aggregazione sociale. La partecipazione del Comune ai lavori presentati rispettivamente dal cast di Santa Firmina e dal gruppo sportivo Vitiano è pari a 170.000 euro, dei quali 90.000 per la prima e 80.000 per la seconda. E adesso spostiamoci invece a Ponte Buriano, è infatti il consigliere comunale di Arezzo Ernato Viscovo a chiedere una maggior sicurezza nel tratto di congiunzione tra la vecchia e la nuova viabilità. La richiesta è quella di un rallentatore, un indicatore di velocità tra le richieste, anche un aumento dell'illuminazione ed un rafforzamento della segnaletica della nuova viabilità. Cambiamo argomento, da domani parte la stagione dei saldi. Da venerdì 5 gennaio ci saranno infatti 60 giorni di tempo per cogliere al volo tante occasioni di acquisto nei negozi della provincia di Arezzo e nel resto della Toscana. Secondo le previsioni di ConfCommercio sono almeno 190.000 gli aretini pronti a comprare abiti e calzatura a prezzi ribassati per un importo medio di 142 euro a persone e un giro di affari complessivo di circa 27 milioni di euro. Secondo le stime di Confesercenti invece gli aretini spenderanno dai 135 euro ai 170 pro capite. E nella cuore della città di Arezzo invece da oggi è tornata la scopina scacciaguare del calcit. Una piccola offerta e una bella scopina, non è che fa senso la scopina del calcit. Si avvicina l'epifania e come tutti gli anni ad Arezzo torna la scopina del calcit. Ormai è un appuntamento tradizionale per gli aretini. Si è un appuntamento appunto tradizionale che noi non vogliamo ovviamente abbandonare. Siamo partiti dagli anni 2000 quando abbiamo fatto le stagioni dei Guinness ad Arezzo che sono stati riconosciuti dalla direzione del Guinness mondiale. E la scopina, quella che vendiamo oggi, che è la scopina diciamo familiare, è un appuntamento che gli aretini, che sicuramente saranno pieni di scopine, però non mancano mai di venire. Forse è un'occasione per aiutarci, per sostenere il servizio scudo e ovviamente poi prendere la scopina. La scopina scacciaguare del calcit all'offerta libera, signori. Forza! Il servizio scudo per noi è diventato l'impegno principale, ha un costo di 340 mila euro all'anno, che è un costo importante, però sostiene un servizio importante, molto apprezzato dalle famiglie e dai pazienti. Perciò è un impegno che ovviamente vogliamo mantenere a tutti i costi. Si è appena chiuso il 2023, è stato anche un anno di importanti investimenti per il calcit, per la sanità retina. Sì, oltre al servizio di assistenza abbiamo cercato anche di andare incontro a quelle che sono state richieste dai vari reparti. Ora a gennaio formalizzeremo almeno 4-5 donazioni dove già gli strumenti sono presso il nostro ospedale in funzione e ora ne daremo la comunicazione ufficiale. Presenti qui in piazza sia il giovedì 4 che venerdì 5 con tanto di Befana? Sì, quest'anno abbiamo messo anche la Befana, una Befana storica perché è sempre stata presente fin dalle prime edizioni. Quest'anno si è, diciamo, di nuovo voluta vestire da Befana e ho visto che sta, insomma, sta catturando l'attenzione delle persone, dei bambini che la guardano con gli occhi un po' spalancati. Insomma, una bella cosa, semplice ma bella. Che vi dico? Auguri! Befana in arrivo anche a Cortona nell'ultimo fine settimana degli eventi di Natale di Stelle. Sabato 6 gennaio alle 16 il corteo dei Remagi con partenza da piazza Signorelli arriva alla chiesa di San Domenico. A seguire è previsto proprio l'arrivo della Befana che arriverà in piazza della Repubblica con la carrozza trenata dal cavallo. E si chiude invece in musica il ricco programma di appuntamenti con il quale Casa Tevenin ha accompagnato le festività natalizie e quelle del nuovo anno. Domani appuntamento con la Befana delle Biodiversità, con i carabinieri forestali del reparto del Parco Nazionale Foreste Casentinesi. E domenica 7 gennaio alle 18 nella Basilica di San Domenico il coro Voci Insieme per il concerto dell'Epifania tra i conosciuti. E restiamo nel cuore della città. La Casa Museo Ivan Bruschi ha chiuso infatti la 2023 con un record di ingressi. Record di visitatori nel 2023 alla Casa Museo Ivan Bruschi parte del patrimonio di Intesa San Paolo che segna il traguardo dei 1.300 ingressi nell'anno appena trascorso, superando di oltre 1.000 presenze le entrate rispetto al 2022. Siamo orgogliosi di aver raggiunto nel 2023 il miglior risultato di sempre, afferma Luca Benvenuti, presidente della Fondazione, grazie al lavoro svolto insieme al nostro conservatore Carlo Sisi, ai sempre maggiori flussi turistici, cittadini e alle collaborazioni in tessute con Intesa San Paolo. Stiamo già lavorando, prosegue Benvenuti insieme, per promuovere nel 2024 un calendario di iniziative di livello nazionale, a partire dalla primavera con una mostra di importanti opere del Novecento proveniente dalle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo. Tra gli eventi del 2024 anche la diciannovesima edizione della stagione concertistica internazionale in collaborazione con l'Associazione Musicisti Aretini. Per iniziare nel migliore dei modi, questo 2024 è in linea con le Gallerie d'Italia, Polo Museale d'Intesa San Paolo. In occasione del fine settimana dell'Epifania, il 7 gennaio verrà offerto l'ingresso gratuito alla collezione, come ogni prima domenica del mese. Questa sera alle 21, dopo il telegiornale, andrà in onda la trasmissione realizzata dallo web, ospite il presidente di Ampi Arezzo. Vediamone un piccolo estratto. È stato un periodo che è coinciso con il passaggio del fronte nella nostra provincia e che quindi ha comportato quei fenomeni che abbiamo rilevato poi in molte altre parti d'Italia, laddove i tedeschi si attestavano per l'ultima difesa, non dimentichiamoci che a quel punto lì le sorti della guerra erano già segnate e che comunque loro avevano inteso come l'ultima difesa del territorio italiano sulla linea gotica e quindi tutti gli episodi che si sono susseguiti nel nostro territorio hanno avuto come apice l'estate del 1944 con le stragi più efferate che abbiamo avuto su tutto il nostro territorio, che è anche difficile è possibile elencare nella loro totalità. Certamente quelle più conosciute sono quelle di Castelnuovo dei Sabbioni, sono quelle di Civitella in Val di Chiana, sono quelle di Stia, di Vallucciole, ma per quanto riguarda il nostro comune soprattutto quella di San Polo. Ma non finirono qui perché non dimentichiamoci che la strage di San Polo ebbe luogo a due giorni dalla liberazione di Arezzo, quando veramente i tedeschi erano ormai in ritirata eppure ci furono degli episodi veramente efferati e furono uccise più di 60 persone fra San Polo, lo sappiamo, e San Severo. Ma nel nostro territorio questa data poi, quella che poi ha conciso con anche la liberazione di Arezzo che era il 16 luglio del 1944, non dimentichiamoci che non si fermarono queste stragi perché successivamente al passaggio del fronte d'Arezzo i tedeschi si attestarono poi verso la Valtiberina e lì continuarono episodi, uccisioni di civili, inermi, fino a che sappiamo il fronte si spostò nel mese di agosto nell'Alta Toscana e lì ci fu Sant'Anna di Stazzema, ce ne furono innumerevoli altre che insomma hanno contraddistinto questa triste epoca della nostra storia. Una sinergia per sviluppare la mobilità a idrogeno. La Casa dell'Energia e il team Rossi 4x4 hanno così unito le forze con la comune finalità di dimostrare come l'utilizzo di fonti di alimentazione additiva al tradizionale carburante possa ridurre i consumi e la conseguente produzione di emissioni nocive in atmosfera mantenendo le ottime performance di un motore. Un importante banco di prova è rappresentato dall'Africa Eco Race che ha visto lo stesso team 4x4 presentarsi al BIA nella categoria sperimentale con un'alimentazione ibrida a idrogeno e benzina. Ed è in corso proprio in questi giorni, oggi la terza tappa dell'Africa Eco Race sentiamo le parole di Stefano Rossi e Jacopo Casini alla fine della seconda giornata. Tappa numero 2 è appena terminata, abbiamo raggiunto Mamid e devo dire che oggi ci sono molte cose da raccontare. Innanzitutto è la seconda giornata di gara e ci siamo affiatati veramente in tutti i sensi. Abbiamo provato tante nuove cose insieme perché abbiamo affrontato la prima parte che era molto veloce ma allo stesso tempo navigata insidiosa e Jacopo si è ben comportato sia nella prima parte che nella parte successiva delle dune che devo dire con orgoglio era la prima volta che affrontava e devo dire che l'abbiamo superato entrambi con grande soddisfazione. non abbiamo avuto nessuna difficoltà e abbiamo poi raggiunto fino alla zona del rifornimento abbiamo fatto il 70% della prova alla grande. Dopo un piccolo imprevisto ci ha bloccato perché un problema elettrico ci ha rallentato, fermato abbiamo tentato di far di tutto ma non è stato facile c'è stata anche l'ebbrezza del traino, ho rivissuto poco, solo 17 km di traino dell'equipaggio numero 409 che comunque devo ringraziare per la sportività perché fa parte dell'Africa Eco Race e ringrazio pubblicamente e poi andrò a stringergli la mano. Bravo anche Stefano che oggi ha guidato molto molto bene, ha fatto scorrere la macchina la prima parte, piste, toste, insidiose, grandi buche, solchi profondi le ha interpretate tutte benissimo e ha fatto scorrere molto molto bene la macchina poi dopo c'è stato un grande erg a Merzuga che ci ha fatto divertire ci ha fatto divertire, l'abbiamo affrontato proprio bene abbiamo serpato, abbiamo fatto delle belle serpate nelle dune Stefano è stato bravissimo, ha capito la traiettoria giusta e le ha affrontate nel miglior modo possibile senza intoppi poi all'ultimo sono scorsi molto molto bene abbiamo concluso la nostra speciale però nel nostro cuore l'abbiamo conclusa finché abbiamo battuto nel migliore dei modi quindi per me grande soddisfazione bravo Iap alla grande oggi veramente passiamo alla danza un importante risultato per una giovane ballerina retina sempre più vicina alla Royal Ballet di Londra questo è il mio sogno quindi in caso potessi frequentare questa scuola è un grande sogno che si è realizzato è una favola che potrebbe diventare in realtà quella di Emma Ferruzzi giovane ballerina retina che sta preparando l'ultimo test per la Royal Ballet di Londra è un risultato importante per la nostra scuola ma credo anche per la nostra città perché significa che comunque c'è un tessuto da questo punto di vista in questo settore che è in crescita un percorso artistico iniziato quando Emma aveva solo due anni anche quando mi mettevano la musica io ero sempre lì che ballavo mi dovevo quindi sin da sempre è stata una cosa che era dentro di me anni di formazione nella scuola retina arricchita dalla partecipazione a masterclass workshop e seminari in tutta Italia tanta passione ed altrettanto sacrificio quasi tre ore al giorno tutti i giorni tranne il sabato e la domenica a meno che non ho lezioni o comunque masterclass con altri insegnanti non mi pesa per niente perché comunque è quello che voglio fare allora a mio avviso la dote più importante è la testa cioè la capacità di sapersi veramente mettere in discussione essere pronta a superare i propri limiti reali, veri essere pronta a sacrificare se stessa, il proprio corpo e il proprio tempo e dedicarsi completamente a questa disciplina adesso la tredicenne ha superato le prime selezioni tra 1400 coetane di ogni continente entrare per la prima volta lì è stato molto bello e emozionante perché comunque sapevo di essere dentro la Royal Ballet School e la cosa più bella appunto è essere lì nella lezione comunque aver respirato l'aria di quel luogo il prossimo 21 febbraio la fase finale per entrare a far parte di una delle più importanti compagnie al mondo fondata nel 1931 e riconosciuta con licenza reale come compagnia ammiraglia di balletto nazionale della Gran Bretagna seguire un figlio che ha certi obiettivi è faticoso, impegnativo assolutamente diciamo c'è un dispendio di energie, di attenzioni che credetemi è piuttosto serio e importante però quando un figlio ha questi obiettivi e di sognare un luogo così bello e così importante è giusto anche dargli la possibilità di sognare Questa perra stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti.